Con una raffica di mozioni che vanno dal biometano allo screening mammografico alla stabilizzazione degli operatori a partita IVA che hanno operato nella fase acuta del Covid, torna a riunirsi martedì mattina il Consiglio regionale dopo due settimane di pausa seguite alla maratona dedicata al bilancio regionale. Si riparte proprio da dove ci si è fermati, da una maggioranza appostata sul crinale degli 11 voti a favore del governo Toma e 10 i contrari con le posizioni critiche dei consiglieri di Fratelli d'Italia Iorio e Romagnuolo che permangono e che nel caso dell'ex governatore si accentuano. Iorio come noto è partito in fuga verso le elezioni regionali del 2023, l'ex presidente ha sferrato un attacco alla Pantani, si è messo in piedi sui pedali ed è partito verso quello che potrebbe essere l'ultimo e più importante tappone di montagna della sua carriera politica. Dietro di lui il gruppone degli inseguitori fa sportellate nella nebbia finendo per neutralizzarsi a vicenda invece di andare a prendere il fuggitivo. In certe giornate quasi tutte invece di stare a Palazzo Daimmo sembra di essere all'aeroporto della Malpensa, tanto sono fitti i vapori. Intanto in attesa che le nubi si sollevino l'assemblea martedì è chiamata tra le altre cose ad eleggere il garante dei diritti della persona. A favore dell'uscente la garante Leontina Lanciano depongono anni di impegno e risultati tangibili. Dovrebbe andare verso la riconferma salvo Sgambetti. Da segnalare anche la mozione dei 5 stelle a favore dei ristori post-covid al settore pesca oggi dopo la pandemia nella tempesta per via del caro gasolio. Su questo versante non si vedono iniziative concrete del Consiglio regionale e questo è un dato negativo.